Ok, grazie, intanto io saluto tutti quanti, saluto i ragazzi che sono stati tutti bravi perché come ho detto prima, con soltanto due mesi hanno dimostrato di essere dei ragazzi bravi e soprattutto con una cosa in più rispetto a tanti altri ragazzi coetanei che rende loro diversi e ricchi rispetto appunto a tutti i giovani di oggi. Prego dai. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.